Il Porto ha battuto per la prima volta la Juventus. La disastrosa difesa bianconera ha preso gol subito. All'inizio dei due tempi, uno dal persiano Taremi e l'altro da Marega. Chiesa, per fortuna dei bianconeri, nel finale ha riaperto il risultato, diventato rimediabile a Torino. Non è stata una bella serata per i bianconeri, Chiellini infortunato e Morata svenuto. È anche vero che nel finale a Ronaldo è stato negato un rigore, ma la squadra di Pirlo si è svegliata troppo tardi e ha pesato l'assenza di Quadrado. Il fenomeno Haaland, doppietta, protagonista di Siviglia, Borussia vinta dai tedeschi per 3-2. Stasera Europa League. L'ex interista Stankovic in panchina e Falcinelli in campo nella Stella Rossa contro un Milan con Mandzukic e Rebic. Ibraimovic in panchina. La Roma giocherà a Braga e Dzeko tornerà titolare. Il Napoli a Granada con Osman dall'inizio. Domani campionato con Fiorentina Spezia e Cagliari Torino, un test importantissimo per la salvezza.